... la faccio io dai che fa Luca? al tempo c'è rota che è nervoso è nervoso vai cazzo ora ragazzi la prima patta è fuori ora ci faccio avanti guarda la prima patta è fuori mi piace un te ciò che non va a cagarlo beh puoi andare in mare non ci sono non ci sono è stato difficile non ci sono non ci sono che ci sono è stato difficile è stato difficile ho preso 8 secondi batteria